Sì, me lo ricordo bene, abbiamo debutto con la maglia della Monere perché è stato un po' particolare, il debutto vero e proprio è stato, sono andato per 4 secondi, a fine della partita anche molto importante perché l'anno della retrocessione era una partita chiave con Torino, insomma ci cercavamo una bella fetta di salvezza, avevamo fatto una gran partita, avevamo vinto anzi più di 20 credo e gli ultimi 4 secondi ho avuto l'onore di poter calcare il parquet con questa maglia e questo è stato il mio debutto vero e proprio, poi c'è stato anche l'anno della 2 che invece è partito insomma a giocare un po' di più e a vivere veramente le partite. Questo rinno cosa rappresenta per te? Ma rappresenta tanta soddisfazione, tanta felicità, sono ripeto comunque fiero del percorso che ho fatto perché comunque sono arrivato qua che avevo 15 anni, ero praticamente un ragazzino, insomma non avrei mai pensato tutto ciò e quindi è per me motivo di grande orgoglio vestire ancora questa maglia in un club così storico, così importante, che mi ha accompagnato appunto nella crescita anche personale perché sono arrivato qua che ero praticamente un ragazzino e piano piano cresco per diventare un uomo e un atleta importante.